Visita studio a Bruxelles per 32 studenti degli istituti superiori del Piemonte. Si tratta dei vincituri della trentesima edizione del concorso Diventiamo Cittadini Europei, organizzato dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico del Piemonte. Il gruppo, accompagnato anche da alcuni docenti, ha visitato le istituzioni europee proprio nel semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.